del suo editoriale zero nella forma lode nella sostanza e dice che dice devo essere sincero visto all'opera il peggior comunicatore nella storia del presidente del consiglio è così è il peggior comunicatore è istituzionale io penso che anche la sua distanza dalla diciamo dagli operatori della comunicazione anche la modalità con cui ha comunicato lo dava già a presagire nel senso che anche quando era presidente della bce parlava solo nel momento in cui c'era necessità con tutti ci ricordiamo whatever it takes e adesso lui ha parlato ai cittadini e ai politici io credo che quella frase sull'unione sullo stare insieme rivolta fondamentalmente soprattutto più che la politica oltre che la politica ai cittadini perché la tenuta psicologica in questo momento della gente è molto bassa e sono stanchi ma sono stanchi perché improvvisamente arriviamo sempre impreparati la puglia in questo momento è sotto diciamo sotto uno schema di pericolo proprio perché mancano delle strutture eppure appena stato inaugurato un ospedale dove ci sono delle insomma dove non è stato fatto tutto per bene arriviamo sempre impreparati in lombardia i vaccini dovevano iniziare bene con determinate velocità eppure ci sono ancora delle lacune e ancora il cambio di piattaforma in tutte le regioni ci sono delle disabilità dettate da una mancanza di organizzazione forse anche il controllo della burocrazia che a volte è stata criticata forse poteva servire anche ad aiutare a costruire un percorso che avrebbe dovuto essere più semplice forse più accentrato non lo so però la gente inizia ad essere molto stanca di questo rincorsa verso un virus al posto di essere pronti ad accettare quello che sta arrivando e combatterlo di conseguenza e pensi alla luce di questo che stai dicendo che sia improponibile dal punto di vista dell'opinione pubblica un nuovo lockdown in come ho usato questo aggettivo improponibile perché lo leggevo ieri per la verità in una fonte anonima del cts citata da un collega sul correa della sera credo che più che improponibile debba essere giustificato per bene nel senso che la maggior parte delle persone è molto favorevole anche nelle rilevazioni non solo nei miei sondaggi ma in quelli di altri istituti anche è molto favorevole a un lockdown breve ma con una grande campagna di vaccinazione ad esempio perché tutti comprendono che se si riusciamo a fare un blocco e quindi una tabula rasa cercando di dettare bene i termini di una vaccinazione a tappeto allora in questo senso la gente è molto più recettiva ecco perché io parlo che del messaggio che principalmente verso i cittadini per la tenuta dello stato sociale per la tenuta di quelli che sono i diversi livelli perché anche ad esempio sul piano dell'istruzione ci sono stati messaggi contraddittori perché si diceva ad esempio che solamente i figli di coloro che fanno dei lavori utili avrebbero dovuto potuto frequentare la scuola proprio per agevolare ma poi non si sapeva quali fossero i lavori utili perché anche un cassiero un lavoro utile anche una persona di front line una persona che guida il campo e quindi si è andato su coloro che portano delle disabilità e quindi hanno bisogno di sostegno allora di fronte a tutto questo c'è la necessità di una tenuta e soprattutto di un coordinamento tra stato centrale e regioni cosa che sta mancando e che genera proprio queste diseguaglianze pensiamo al molise pensiamo a tutto quello che sta capitando e siccome la pandemia si sta espandendo con termini che noi abbiamo imparato a conoscere bene e siccome siamo a un anno esatto dal lockdown generale del di quel di quanto è capitato le persone vorrebbero che la politica e le strutture competenti si organizzassero in una maniera migliore chiaro allora torno da antonio misiani e da